Verso un teatro comunale a Torre del Greco, ma è guerra sulla sede. Il Consiglio Comunale a febbraio approvò la mozione sul teatro comunale di Michele Langella, presidente del gruppo consigliare Alleanza Democratica per il Fare Civico, protocollata a firma congiunta dei consiglieri Aniello Formisano, Ana Laura Guarino e Lucia Vitiello. La proposta era quella di munire la nostra città di un pollo artistico e culturale, da utilizzare per eventi e progetti. In meno di due settimane il dirigente all'urbanistica comunicava la piena fattibilità del cambio di destinazione ed uso dell'ex pretura, da anni inutilizzata. Ciò nonostante, la Giunta ha provato non solo di indire una manifestazione di interesse a vendere immobili idonei al caso, ma ha destinato anche mille euro per la sua realizzazione. Immediata la polemica, soprattutto guidata al Movimento 5 Stelle cittadino, ci si domandava come si facesse a pensare di investire risorse per l'acquisto di un'immobile con strutture inutilizzate e finanziamenti cospicui per la realizzazione del progetto. Il 13 febbraio 2020, contestualmente alla mozione approvata dal Consiglio, è nato anche il Comitato Insieme per un Teatro, un'aggregazione spontanea ai 15 realtà culturali associative che rappresentano, a Torre del Greco, il mondo del teatro, della danza e della musica. Come di facile intuizione, la mission del Comitato è la creazione di un teatro stabile comunale a Torre del Greco, che possa essere una casa per le tante realtà artistiche. Il Comitato si è tenuto fuori dalla charella inerente alla sede, ma ha ricordato che per creare una simile struttura non basta attrezzare un palco e delle poltrone, ma bisogna considerare spazi per le prove, un parcheggio e tanti altri servizi per gli operatori e per gli spettatori. Anche il PD si è dichiarato favorevole alla creazione del teatro. In una nota di pochi giorni fa, il partito si associava alla richiesta di utilizzare strutture già esistenti. Saremo attenti, si legge nel comunicato, affinché non si facciano scelte errate come già fatto in passato, come l'acquisizione dell'opera incompiuta dell'ex sementificio. Siamo per la buona cultura, che serva anche alla valorizzazione e l'utilizzo dei beni comunali. Anche Articolo 1 batte sul riciclo di immobili in disuso. Il partito si dichiara d'accordo con la proposta dei consiglieri 5 Stelle, Salerno Vincenzo e Borriello Santa, affinché la ex procura diventi teatro comunale polo-culturale. Sarà vigile sui successivi atti che questa amministrazione comunale produrrà in favore dei privati.